Terremoto Campi Flegrei, gravi danni anche agli edifici. Questa mattina, i residenti di Campi Flegrei e delle aree circostanti sono stati svegliati da una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, avvertita distintamente specialmente nei piani alti degli edifici. La scossa, avvenuta alle 5.44 e localizzata a una profondità di soli 3 km con epicentro nel golfo, ha provocato notevole apprensione tra la popolazione. La gente, spaventata, è scesa per le strade nelle zone di Bacoli e altri quartieri di Napoli, temendo ulteriori scosse. Nonostante l'allarme, le autorità locali, compresse la protezione civile e la polizia municipale, stanno conducendo controlli per accertare l'entità dei danni, che al momento non sembrano essere significativi. Il fenomeno sismico non è isolato, essendosi verificata una scossa premonitrice di magnitudo 2.4 nella notte, parte di uno sciame sismico che ha caratterizzato la regione con numerose altre scosse, sebbene di intensità inferiore. Questa attività sismica risveglia la consapevolezza di vivere in una zona geologicamente complessa e attiva. I sindaci delle aree colpite stanno prendendo misure immediate per assicurare la sicurezza dei cittadini e gestire la situazione. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha attivato i servizi di emergenza e ha fornito informazioni sui contatti utili per eventuali segnalazioni di danni. Il sindaco di Bacoli ha rassicurato la popolazione, sottolineando l'importanza di mantenere la calma e promettendo aggiornamenti costanti. In un intervento su Rai News 24, è stato fatto anche un appello per il completamento del sisma bonus, una misura governativa volta a sostenere i cittadini nell'adeguamento delle abitazioni per renderle più sicure, in caso di terremoti. Questa iniziativa è particolarmente rilevante ora che la frequenza dei movimenti tellurici sembra essere in aumento, sottolineando la necessità di preparazione e prevenzione in queste zone ad alto rischio sismico. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! Grazie!